Abbiamo un testimone che sta collaborando con noi, stiamo scaricando altre immagini di altre telecamere perché abbiamo avuto indicazioni precise su come era vestito, sull'età, sul fatto che fosse italiano e tante altre cosine e cercheremo ovviamente di comparare se troviamo delle immagini abbastanza nitide, dei volti con le indicazioni che ci ha dato il testimone. Quindi lei esclude la matrice politica? Io non escludo nulla nel senso che per ora abbiamo l'indicazione di una singola persona, poi perché lo abbia fatto può essere per un motivo legato semplicemente a un momento in cui uno non sa cosa fare oppure magari qualcosa di differente, però questo per ora non siamo in grado di dirlo. Le palme io ricordo di un locale che ormai è chiuso quindi si può dire che era il gatto nero che stava all'ortica in cui l'ingresso c'erano delle palme, le palme sono sempre state presenti in questa città nei secoli. Dico che è una bellissima pianta, sì esotica, bella, però non mi sembra un problema molto serio se ci debba stare una palma, un baobab piuttosto che una quercia in Piazza del Duomo. Capisco che possa anche essere un argomento nuovo e piacevole su cui discutere, però credo che abbiamo anche altre cose molto più importanti su cui discutere.